Salve, c'è una persona che ha visto la Madonna, la vede solo lei, la ascolta solo lei, anche se vedere significa che la propria retina viene colpita dalla luce e il cervello sente ciò che la retina gli dice e anche se udire una parola significa che il timpano viene sollecitato da una vibrazione dell'aria che può essere misurata e questo timpano comunica col cervello, però stranamente questa apparizione viene vista solo da una persona che però rispetto a un'altra persona ha una caratteristica fondamentale, cioè ha fede, finissimo, c'è un'altra persona invece che ha visto gli alieni, solo lui può vederli, anche se vedere qualcosa significa che la propria retina viene colpita da un'onda elettromagnetica che si chiama luce e questa retina comunica col cervello e anche se ci parla ma ascoltare quello che dice un alieno significa che il proprio timpano viene raggiunto da una vibrazione e questa vibrazione viene raccolta dal timpano e viene poi portata al nostro cervello. Nonostante questo soltanto lui può vedere l'alieno perché lui è illuminato. Non importa quello che dice la scienza ufficiale, quello che dicono questi scienziati della scienza ufficiale che scrivono delle equazioni e poi ce ne sono altri che verificano queste equazioni, virgola dopo virgola e perdono tutto questo tempo a controllare le equazioni, a creare modelli del suono e della luce. Tanto non servono perché poi cos'è che vedi? Vedi solo quello che tu credi di poter vedere. E allora vedere e ascoltare non sono più fenomeni fisici, sono fenomeni assolutamente soggettivi. Quindi anche la luce e le vibrazioni dell'aria sono assolutamente soggettive. Sì però anche io ho visto la madonna, sì sì, l'ho vista, l'ho vista e mi ha parlato e mi ha detto che quell'altra non è la madonna vera, è il diavolo, è il diavolo con un coso azzurro in testa. È capace, il diavolo è capace di fare quelle robe. A questo punto chi ha ragione? Nessuno può controllare che sia vero o falso quello che dico io. E nessuno può controllare che sia vero o falso quello che dice chi vede l'apparizione. E se io vedo un altro alieno e mi dice che tutti gli alieni che sono stati visti fino adesso sono soltanto delle proiezioni sue, che giocava con noi un po', vedeva un po' come ci comportavamo e faceva apparire questi alieni soltanto ad alcuni e altri no. E si divertiva e rideva un casino a vedere questa gente che faceva le conferenze sugli alieni ma erano soltanto proiezioni sue. E tanto per farsi credere raccontava un sacco di cazzate su mondi proiettati, oleografici. Tanto apparivano queste robe soltanto ad alcuni. Però la scienza ufficiale dà così fastidio. Questi che si ostinano a scrivere nel suo bianco le loro affermazioni e con altri che si ostinano a controllare se quello che è stato scritto è giusto o sbagliato. E questi giornali scientifici che permettono a qualsiasi ricercatore del mondo di poter pubblicare tutto quello che vogliono. Tanto poi a coprirsi di ridicolo sono i ricercatori che provano a mettere nero su bianco una teoria scientifica o fisica in cui poi possono intervenire di altri che magari hanno studiato qualcosina e possono vedere non se questo che viene affermato si conforma alla scienza ufficiale ma semplicemente se regge o non regge, se può essere verificato o meno. O se non viene verificato si scrive guarda non è verificata ma potrebbe è possibile perché non trovo nessun controesempio. O magari trovano un controesempio. comunque le apparizioni delle madonne e le apparizioni degli alieni hanno un elemento in comune. non sono misurabili. Non hanno a che fare con il nostro mondo. Io vado tranquillamente a lavorare senza preoccuparmi che potrei investire un alieno. Vado al cinema senza dire alla madonna che mi appare davanti spostati che non vedo nulla. Non hanno a che fare con il nostro mondo reale. Sono tutti fenomeni stranamente che sono soggettivi cioè li vedono e li sentono solo alcuni. Sono soggettivi e non hanno interferenza con il mondo perché altrimenti potrei misurarlo e dire vedi che la porta che si è aperta da sola c'è una roba che flutta per aria. Oppure appare una macchia sulla parete quindi come con la forma di un corpo che vi è passato attraverso. Non succede mai. Che strano. L'apparizione di madonne? Gli alieni. Non sono misurabili. Non hanno a che fare con il nostro mondo. Non nessuno ha avuto mai la possibilità di misurare la presenza di un alieno. O della madonna. O di babbo natale. O dei puffi di topolino. A volte abbiamo bisogno di credere in qualcosa. Magari è vero. Tuttavia non si pretenda che questo diventi scienza ufficiale. e facciamo in modo di non prendercela con la scienza ufficiale che ha a che fare solo con affermazioni misurabili e controllabili. Grazie